ciao a tutti amici di Lifecycle.bike oggi vi voglio parlare del mio concetto di bikepacking quotidiano e praticamente consiste in questa semplice sacca portoggetti in questo caso comprata alla decathlon infatti è marchiata between come si può vedere e sinceramente è una soluzione che io trovo veramente pratica perché mi permette negli spostamenti quotidiani durante gli allenamenti in qualsiasi situazione di portarmi dietro tutto il necessario come ad esempio le chiavi di casa adesso che comincia a fare un po più fresco visto che siamo in autunno anche se a volte non sembra il keyway fazzoletti lucchetto se mi dovessi fermare a un bar o da qualche parte la pompa co2 che adesso eccola qua vi mostro per le forature e blistex per per le labbra per proteggere dal vento luce di emergenza eccola qua se in caso di scarsità di luce mi dovessi trovare a fare qualche intervento sulla bicicletta caramelline varie e quant'altro volendo ci posso mettere anche le luci e niente insomma poi portafoglio documenti e roba varia veramente una soluzione pratica che è composta anche da questi due elastici ormai un po' un po' slargati ma perché insomma questa borsetta ormai il suo tempo infatti ha cinque anni cinque anni che la uso quindi insomma però è l'unica cosa che sia un po' sciupato per il resto funziona ancora benissimo ha una praticissima zip per aprirla e chiuderla detto sinceramente non non sta neanche troppo male nella bicicletta ovvio i puristi si lamenteranno storceranno un po' il naso perché insomma ora proprio non è il massimo della bellezza però è il massimo della praticità questo sì è una soluzione che che vi consiglio insomma se non state troppo a vedere l'aspetto estetico della bicicletta ma l'utilizzo che uno ne fa detto questo amici di life cycle punto bike vi saluto ci vediamo al prossimo appuntamento una buona giornata e tanti buoni allenamenti ciao ciao